Io mi schiero, perché il Partito Democratico sarebbe contrario, io però mi schiero con i sindaci del Partito Democratico. Le parole di Antonella Tocchetto esprimono chiaramente la spaccatura nel PD sull'abolizione del reato d'abuso d'ufficio promosso dalla riforma del ministro Carlo Nordio e approvato dal Consiglio dei Ministri. Se dai vertici del Partito Democratico e l'Ischlan in testa si esprime contrarietà all'approvazione della riforma, che aumenterebbe il rischio di corruzione, i sindaci del centro-sinistra si dicono soddisfatti non solo in Veneto. E nel partito c'è una netta divisione. Sono riforme che secondo me non devono avere grandi colori politici, le dovrò leggere perché non è che le sposo in toto, però spero che nella riforma del dibattito parlamentare trovino una giusta soluzione perché sono anche riforme di buonsenso e di civiltà giuridica. Chi per primo aveva invocato la riforma, il presidente di Anci Veneto e il sindaco di Treviso Mario Conte, è soddisfatto per il superamento della norma. Schierati in prima fila, i primi cittadini si trovano a rispondere in prima persona in qualsiasi situazione. L'Associazione dei Comuni per questo chiedeva da tempo regole certe. Il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri, fa sapere Conte, rappresenta una tutela nei confronti di chi deve affrontare emergenze. Una riforma caldeggiata anche da parte del centro-sinistra, per Antonella Tocchetto, esponente del PD di Treviso. Alcune cose, ripeto, come l'abuso d'ufficio, erano state caldeggiate anche dal centro-sinistra. Erano contrari 5 Stelle, ma il Partito Democratico, ripeto, con i suoi sindaci era d'accordo. Quindi vedremo cosa ne uscirà dal Parlamento, però alcune cose sono condivisibili anche dal centro-sinistra.